secondo voi perché siamo qui a divertirci anche adesso però parliamo di cose serie siamo qui per il progetto debra italia onlus per i bambini farfalla ed una cosa importante lo scatto l'abbiamo fatto adesso sta a voi comprare il calendario altrimenti altrimenti se non comprate il calendario vi faccio vedere da qui